Benvenuti nella sesta stagione della rubrica risolvi i problemi dei film dove recensiamo brevemente 21 film dalla A alla Z film di oggi è la terra dei morti viventi cominciamo film di Giorgia e Romero con Simon Bacher, John Leguizamo, Asia Argento, Danny Sopper e Robert Joy del 2005 dopo gli avvenimenti della trilogia sugli zombie di Romero la società riparte con i soliti problemi di sempre e cerca di contenere gli attacchi continui dei morti viventi. La poetica romeriana continua ad evolversi e ad espandersi dalla notte dei morti viventi fino a questo conclusivo capitolo della tetralogia, gli zombie sono riusciti a progredire e non sono più soltanto masse di carne morta senza pensiero, mentre gli uomini al contrario hanno le stesse caratteristiche che il regista ci ha mostrato sin dagli albori di questa saga. Gli esseri umani amano distruggere, conquistare, possedere e si divertono a usare gli zombie come bersaglio dei loro istinti animalischi e predatori e sono pochi quelli che possono essere considerati puri e non contaminati da avide ambizioni. Nei precedenti film il personaggio di colore rientrava nella categoria appena citata di esempi positivi a cui affezionarsi, qua è lo stesso con la particolarità che si tratta di uno zombie, emblema del fatto che l'umanità ormai ha poco di buono e merita di essere rimpiazzata da un'altra specie, dato che persino uno dei pochi punti di riferimento positivi presenti nei precedenti capitoli è diventato uno zombie. In questo la terra dei morti viventi non vi è la descrizione di una società presa alla sprovvista che cade nel caos più apocalittico possibile, come vedevamo nella prima sequenza di zombie dove mass media andavano in crisi, ma la società si è riorganizzata e ciclicamente continuano disparità sociali, soprusi nei confronti dei ceti meno ambienti e lussi spropositati per i più ricchi. Quest'ultimi si sentono quindi onnipotenti perché hanno trovato il modo di neutralizzare la minaccia continuando a vivere nel comfort. Ma questo castello di onnipotenza cadrà inesorabilmente, non avete il diritto, esclama un mefistofelico personaggio interpretato da Danny Sopper riferito ai morti viventi che saltano alla ribalta nelle fasi finali della pellicola e gli amanti del gore potranno gioire tra piercing strappati a morsi e fiotti di sangue che imbrattano le vetrine. Lo splatter, rispetto ai precedenti film, è più centellinato, non avremo intere sequenze continuate di smembramenti, ma intestini e morsi fatali non mancheranno. Le figure dei morti viventi assumono spessore e forza drammatica, come già accadeva nel giorno degli zombie con la figura di Bub, riuscendo a provare emozioni quali la sofferenza per le perdite di persone a loro care e il desiderio di vendetta. In più la loro propulsione a tornare a svolgere mansioni che svolgevano in vita, per Bub impugnare la pistola e per Big Daddy armeggiare le pompe di benzina la useranno per accanirsi e vendicarsi in modo sanguinoso e liberatorio contro chi è smisuratamente potente, avverso e spaventato dal progresso degli zombie. Bellissimo il rapporto di amicizia tra lo sfregiato Charlie e il sognatore Riley, con l'ambizione di trovare un mondo senza frontiere, e splendida la caratterizzazione del personaggio interpretato da John Leguizamo, rabbioso e odiabile, ma allo stesso tempo non si può non empatizzare con lui. Kamei per Edgar Wright e Simon Pegg, chiamati da Romero come riconoscimento per aver scritto quella da lui considerata la miglior commedia a tema zombie, ovvero l'alba dei morti dementi. Forse nel confronto con gli altri capitoli non uscirebbe vincitore, ma si tratta comunque di un horror imprescindibile per ogni amante del genere. Voto 8,5.